Vediamo ancora alcuni dettagli come la Tuga che termina con un piccolo scalino che in realtà viene camuffato da questa finestratura che ha una doppia funzione sia estetica per smussare lo scalino della Tuga che è funzionale per aumentare la luminosità interna insieme al resto degli oblò posizionati sulla Tuga.